Sommato anche altri finanziamenti e devo dire a vederlo, insomma, capisco a maggior ragione perché si merita questa taglia, appunto che è una taglia del GSE che attesta che è un fiume che ora consuma di meno grazie ai lavori che ha fatto anche con il contenuto del conto termico, insomma, e non sono tantissime le taglie che diamo in Italia, nel senso che proprio sono gli NZEV più belli, più ricostante con la valutazione solo di kilowattora e quella è l'energia e in effetti quella l'abbiamo ridotta a meno del 50%, io spero che a fine anno vedremo i risultati della prima gestione, fra tutto penso che si attesteremo sul 30% il tetto così è davvero molto bene, però è un tetto con 20 cm di divana sopra di isolamento, quando prima c'era un tetto in doghe, con quei buchi, il tetto direi che forse è stato l'intervento energeticamente più importante. Poi abbiamo anche cambiato i seramenti, dove è progettista anche della parte di ILE, che allora era vivendo nel comune, quindi ha lavorato anche su quello che era la parte di progettazione di ILE, io faccio più che altro progetto di impianti.